Buonasera a tutti, io sono Fabrizio Ricciardelli, alcuni di voi mi hanno già visto in qualche altra presentazione, sono il direttore di Kent State University Florence, è un piacere ospitare questo ciclo di direzioni su Dante ed è un piacere particolare quello di collaborare con la Fondazione dell'ospedale di Santa Maria Nuova per tanti motivi, ma soprattutto perché è uno dei più importanti ospedali del centro storico e stavamo parlando adesso con il dottor Landini a proposito dei nostri studenti, quindi è anche un'occasione di riscambio in questa direzione. Io lascio subito il palcoscenico, il podio al dottor Landini che presenterà il nostro conferenziere, il dottor Massaro e andiamo avanti con le nostre conferenze, grazie. Fabrizio grazie, sono molto anch'io contento del successo, in modo che questa iniziativa ci ha, è successo chiaramente dovuto all'associazione del nome di Dante e il nome di Santa Maria Nuova, sono due nomi che a Firenze riscontrano sicuramente il successo. Donato Massaro ci parlerà di Beatrice che è veramente stata evocata nelle altre precedenti conferenze, quindi lui farà invece un profilo più a tutto sondo di questa donna così importante per Dante Alighieri e di conseguenza così importante anche per Firenze. Donato Massaro è socio onorario dell'Accademia delle Arti del Disegno che fra parentesi ha quello stemma lì che è diverso da quello mio di Santa Maria Nuova, però sono molto collegati, nel senso che Santa Maria Nuova e l'Accademia delle Arti del Disegno sono collegati sempre strettamente perché in effetti l'Accademia deriva dalla compagnia di San Luca, dell'Accademia di San Luca che aveva sede nell'ospedale di Santa Maria Nuova per tanti secoli e poi fu Cosimo I che nel 1563 mi sembra fondò veramente l'Accademia, però la confraternita di San Luca dei pittori Fiorentini stava dentro all'ospedale di Santa Maria Nuova e ho letto che nello statuto di Cosimo I si diceva che era un obbligo una volta all'anno che gli accademici facessero anatomia a Santa Maria Nuova, quindi queste associazioni, queste strutture fiorentine sono veramente tutte collegate l'una con l'altra e quindi sono contento che Donato Massaro ci parli di Beatrice oggi. Bene? Prego. Grazie Presidente, grazie dell'invito. Allora Beatrice Portinari da Musa ispiratrice a Santa protettrice. Ora cominciamo una premessa, se non ci fosse stata Beatrice Dante non avrebbe scritto né la Divina Commedia né la Vita Nuova e probabilmente anche la lingua italiana che noi parliamo così com'è probabilmente sarebbe stata tutta un'altra cosa perché la lingua italiana nostra ora di oggi è diciamo in merito di Dante perché la sua opera ha avuto subito una grande diffusione subito appena uscita perché allora gli intellettuali scrivevano in latino piuttosto che in volgare quindi è proprio l'impulso che ha dato Dante e quindi è merito di Beatrice. Ma se non ci fosse stato Dante Beatrice non sarebbe così famosa, sarebbe stata un'anonima gentildonna fiorentina che storicamente ha lasciato soltanto qualche traccia per aver sposato Simone dei Bardi e basta finire lì. Quindi Beatrice e Dante sono veramente una bella coppia diremmo che hanno vissuto una storia d'amore, più che altro l'ha vissuta Dante, la grande storia d'amore perché questa storia d'amore con Beatrice si svolge tutta nella mente e nel cuore di Dante e dura tutta la vita ed è l'unica testimonianza che si ha di questa storia, ce la dà solo Dante, non è che si trova in altri scritti, in altre cose, però è una testimonianza veramente importantissima e bellissima. Allora doveva essere parecchio innamorato Dante per dedicare un sonetto come questo alla donna amata, tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia quando è l'altrui saluta, che ogni lingua deve intremando muta e gli occhi non ardiscono di guardare. E poi continua per altri dieci versi, il sonetto lo conosciamo tutti, l'abbiamo imparato a mente a scuola e tutti sanno che la donna di cui parla nel sonetto era Beatrice Portinari, figlia di Forco Portinari, banchiere che in 1288 aveva fondato l'ospedale di Santa Maria Nuova, che ha il primato ad essere il più antico ospedale al mondo ancora funzionante, dopo più di sette secoli, vero Presidente? Ecco, quindi Beatrice intanto era bellissima, ma non solo perché lo dice Dante, perché appunto si sa che dalle opere che tutte la ammiravano, e la vede per la prima volta all'età di nove anni, era in 1274 e lei ne aveva otto, erano due ragazzini insomma, e racconta Dante che ne rimase folgorato, lo racconta nella Vita Nuova, un libretto piccolino ma molto bello. Vita Nuova è un libro sui generis autobiografico, perché non si sa dove finisce la cronaca e dove comincia la trasfigurazione poetica degli eventi narrati. Sembra quasi una favola, un sogno d'amore, fatto di poesie mista a prosa. È stato scritto in 1292-93, a 27 anni quindi l'ha scritto Dante, e in esso rivive con la memoria quell'esperienza, ripercorrendo le tappe di quell'amore così coinvolgente ed esaltante. Dunque, a nove anni ne fu abbagliato, andando incontro ai suoi primi turbamenti e al desiderio di vedere questa angiola giovanissima onde io nella mia puerizia molte volte l'andai cercando e vedea di si nobili e laudabili portamenti, scrive subito le prime sensazioni provate. E l'andava cercando, ma non deve essere stato difficile rivederla, perché gli Alighieri e i Portinari erano vicini di casa, nei pressi lì della Badia Fiorentina, quindi via del Proconsolo, via del Corso, via Santa Margherita, in quella zona lì. Però Dante si limitava, aveva nove anni, dieci, insomma, una contemplazione muta e interiore, quella di un ragazzino riservato e timido. Il passo successivo di questa storia d'amore che ha fatto storia avviene nove anni dopo, invece, il 1283, e ha del reale e insieme del surreale, così come la racconta. Ma in buona sostanza c'è da credere a quello che racconta Dante, perché infatti dalla vita nuova poi ci saranno gli sviluppi ulteriori nella commedia. Aveva dunque 18 anni, il 1283, quando le pulsioni amorose sono pressanti e il primo amore bussa di norma alla porta. Per le vie del centro della Firenze di Dante, che possiamo immaginare ma che nel libretto sono indeterminate al fine di avvalorare l'idea di un sogno vissuto a occhi aperti, questa mirabile donna apparve a me, vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, e passando per una via volsi gli occhi verso quella parte ovvio era molto pauroso e per la sua ineffabile cortesia mi salutò e molto virtuosamente, tanto che me parve allora vedere tutti gli termini della beatitudine, scrive Dante. Beatrice lo ha salutato, è la prima volta che accadeva e da allora il suo amore per lei fu un pensiero dominante, tutti i giorni pensava a Beatrice, ogni momento, e fu anche teoria di amore. Ma quale amore? Quello del dolce stil novo. Il dolce stil novo vedeva nella donna amata, idealizzata, il concentrato di ogni imperfezione e bellezza, cioè la donna angelicata adorna di gentilezza e virtù. Il dolce stil novo dava forma e sostanza al nuovo corso poetico praticato da un'elite di intellettuali che vedeva in Guido Guinizelli, bolognese, il fondatore della scuola, e in Guido Cavalcanti, l'esponente fiorentino di maggior spicco. Tale poetica cantava i valori cortesi cavallereschi che facevano della donna un'icona da contemplare, per la quale gli spasimi erano d'amore platonico, alieno da sensualità e carnalità. Sarà poi Dante stesso ad eccellere nel dolce stil novo, superando sia Cavalcanti che Guinizelli. Allora, a 18 anni, Beatrice apparve al momento giusto nella vita di Dante, perché Dante allora ancora non aveva scritto nulla, non era conosciuto, era un poeta in erba, ed anche aveva l'età giusta per innamorarsi. Quindi, dopo questo incontro, posse mano alla penna e fu subito il primo sonetto, che era a ciascun'alma presa e gentilcore. In questo sonetto egli saluta gli innamorati, tutti gli innamorati che chiama i fedeli d'amore, e lo manda ai poeti fiorentini per averne un parere anche sul contenuto. In questo sonetto narra il sogno succeduto al saluto frastornante di Beatrice, ma senza rivelare il nome della donna amata. Il sonetto era a prassi allora comune, quella di scambiare tra gli intellettuali le loro opere. Il sonetto riceveva il plauso di Guido Cavalcanti, che aveva una decina d'anni più di Dante, ed era già un poeta affermato e anche brillante socialmente, era uno, anche come diremmo oggi, uno della meglio gioventù fiorentina. Quindi avere i complimenti di Cavalcanti per Dante fu veramente un trionfo, Dante esulta perché si sentiva riconosciuto come poeta, ed era nato anche un sodalizio poetico, infatti scrive nella Vita Nuova, Cavalcanti è quelli che io chiamo primo degli miei amici, quindi diventa subito il grande amico di Guido Cavalcanti, ed è nato anche l'amore per la gentilissima Beatrice. Quest'amore è vissuto con trepidazione da Dante, e sarà per sempre. Cerca intanto di non darne l'occhio, perché si accorgono che Dante di Sciottenio era innamorato, però lui non voleva far vedere questo aspetto qui. E quindi cerca di, come sappiamo, come racconta lui stesso, di trovare le donne dello schermo per depistare e non compromettere l'amata con i pettegolezzi che potevano venirne fuori. Ma così facendo riesce però soltanto a irritare Beatrice, che gli nega il saluto quando lo incontra. Al che Dante cade nello sconforto, perché quel saluto per lui era tutto. In quello dimorava la beatitudine, che era fine di tutti i miei desideri, scrive. E allora gli apparve l'amore in persona, personificato nei suoi pensieri, che lo invita a manifestare pubblicamente il suo sentimento, quindi non a nascondersi più dietro le donne dello schermo, ma a manifestarlo pubblicamente. Cosa che Dante fa, ma era sempre preso da tanti pensieri contrastanti, come fare e tutto. E scrive un sonetto, tutti i miei pensieri parlano d'amore. E continua così questa storia, ma ogni volta che la vede, si emoziona fino a star male, certe volte. Tanto che molte donne si burlano di lui e del suo comportamento, così diverso dalle appassionate poesie. E c'è delle scenette veramente descritte bellissime nella Vita Nuova, perché dice, ma come, tu sei così appassionato quando scrivi queste poesie, e poi quando la incontri ti metti a... quasi tremava da svenire. E così, insomma, 18-19 anni, vive le pene d'amore a tutti note. Scrive ballate, sonetti, poesie dedicate a lei e all'amore in genere, cercando anche di venire a capo di questo suo travaglio sentimentale. E l'apice di tutte queste poesie è quello appunto già citato, tanto gentile e tanto onesta pare, che poi continua. Ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Quindi si vede già, comincia questa... proprio la vede già come qualcosa che scende dal cielo. Quindi l'amore è più che meraviglioso, è una cosa dell'altro mondo, perché racconta in questo sonetto che quando Beatrice passa, praticamente irradia intorno a lei dei benefici effetti di dolcezza e di amore. Quindi si capisce benissimo da tutta questa serie di poesie della vita nuova che Beatrice è senza dubbio la musa ispiratrice. Se non che Beatrice muore, giovanissima, a 24 anni, in 1290. Quindi sono stati sette anni di grande amore, però che è finito tutto un tratto. Dante passa dal dolore alla prostrazione e il ricordo di lei non lo lascia un istante. Pensa continuamente a lei. Era venuta nella mente mia quella donna gentil cui piange amore e la immagina, la pensa, la sogna e cerca sollievi sentimentali persino con una donna bella che vedendolo così malconcio prova a piacere a consolarlo. E Dante lì per lì dice potrebbe essere un'occasione, ma si accorge presto che il suo cuore è altrove, quindi è combattuto tra inclinazioni dei sensi e necessità dell'anima che reclama fedeltà a Beatrice. E intanto appunto Beatrice gli era apparsa in visione come l'aveva vista la prima volta a nove anni, cioè vestita di rosso, simbolo di amore. Allora Dante recupera, cerca di rinsavire, diciamo così, e recupera quella che lui chiama molto bello la costanza della ragione che poi è anche il titolo di Vasco Pratolini che l'avrà preso da Dante, suppongo, la costanza della ragione. E pensa da allora in poi solamente a Beatrice scacciando pensieri pur mondanamente attraenti. E quindi scrive La vita nuova, da lì a poco, il 1292-93, scrive La vita nuova. Già il titolo è tutto un programma perché, come dice appunto nell'incipit dell'opera, quell'amore sperimentato intensamente esige uno sviluppo, ma uno sviluppo che lo possa elevare anche spiritualmente. Quindi un amore umano che sarà, che lo condurrà all'amore divino. Questo lo si percepisce nell'ultimo sonetto della vita nuova. L'ultimo sonetto che dice oltre la spera che più larga gira, la spera che più larga gira è il primo mobile del cielo, del cosmo aristotelico-tolemaico che poi Dante assumerà nel paradiso per arrivare all'Empirio, è il cielo più vicino appunto all'Empirio che è sede di Dio degli angeli e dei santi. Quindi oltre la spera che più larga gira passa il sospiro che esce dal mio cuore, intelligenza nuova che l'amore piangendo mette in lui pur su lo tira. Quindi già comincia a sentire qualcosa di spirituale, non più soltanto di amore umano, ma ancora è lontano da questi diciamo stimoli spirituali. E infatti non parlerà più di Beatrice, dice fra l'altro nell'ultimo sonetto, finché non potrà dicer di lei quello che mai non fu detto da alcuna, sperando poi di rivederla in cielo a Dio piacendo. Quindi c'è inuncia il proposito di scrivere la commedia, però passeranno molti anni prima di mettere mano alla commedia e non sarà più Dolce Stilnovo che cantava amore umano, ma sarà poesia che inneggerà all'amore divino. Infatti la commedia comincia a scriverla in 1306-7, le date in Dante sono sempre fissate dagli studiosi, comunque diciamo questa è quella più accettata, quindi a distanza di anni, dal 1293 sono 13 anni, durante i quali si dà intanto alla filosofia per trovare consolazione, perché a quell'epoca era molto diffusa, è famoso un libro che ancora oggi è molto bello a leggere, la consolazione della filosofia di Boezio, di Severino Boezio, e quindi Dante si dà alla filosofia, poi di filosofia ha scritto Il Convivio, quindi insomma era un filosofo anche col traietteologo e si dà anche alla politica perché sarà priore nel 1300, lui si era già scritto per essere priore per fare politica, lo ricordava l'altra volta il dottor Landini, l'arte dei medici e degli speciali ed era con i guelfi bianchi, i guelfi bianchi che nella lotta di parte che sappiamo tutti imperversava a Firenze si schierava con l'imperatore mentre i guelfi neri si schieravano con il papa papato e impero che dovevano essere così poi come lui ha teorizzato anche in monarchia scritta in 1313 le due autorità che dovevano portare l'umanità alla felicità terrena uno e celeste quell'altra però in realtà erano due poteri sempre in contrapposizione tra di loro e quindi causavano anche smarrimento nella società ma uno smarrimento personale Dante lo ha descritto proprio all'inizio della commedia quando dice appunto quindi il suo era proprio uno smarrimento personale nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita quindi Dante ammette siccome la commedia comincia in 1300 a metà della sua vita ammette che a quella data nel viaggio della vita si era perso nella selva oscura di che cosa delle idee confuse infatti aveva cercato filosofia teologia tutte queste su questo ce ne ha parlato il professor Cipriani quindi dopo e scontato è tutto e del peccato si sentiva un peccatore visto questi stimoli anche di tipo spirituale che aveva e quindi ora sarà un altro viaggio straordinario di ragione e di fede fatto per grazia nei regni oltremondani inferno purgatorio e paradiso che sono i luoghi deputati nell'ottica cristiana alla sorte eterna per giungere alla beatifica visione all'insegna dell'amore e Beatrice che è già in paradiso ha un ruolo determinante in questo viaggio che si accinge a fare e lo vedremo ora subito intanto il viaggio inizia la notte tra giovedì e venerdì santo l'8 aprile 1300 che è appunto la settimana santa altri studiosi sono due schiere di pensiero due correnti di pensiero fanno iniziare il viaggio il 25 marzo che è il capodanno fiorentino però molti fanno iniziare la settimana santa anche perché Dante lo dice espressamente è un viaggio di redenzione personale nell'ambito della redenzione universale cristiana e quindi l'8 aprile 1300 è smarrito la mattina dell'8 aprile del venerdì santo è impaurito perché è assediato da tre fiere leone lonza e lupa e vede lì vicino un collo illuminato dal sole e cerca di mettersi in salvo andando dalla selva oscura al collo illuminato però le fiere le tre fiere glielo impediscono questa è una visione diciamo metafisica perché poi quel collo illuminato si sa che è la montagna del purgatorio che però è ubicata nell'ottica di allore di Dante nell'emisfero australe quindi però dal punto di vista metafisico la salvezza è lì a portata di mano e lui potrebbe andare vorrebbe andare all'incontro ma non può a questo punto gli va in soccorso un'ombra è quella di Virgilio che gli indica un'altra via per la salvezza cioè fare esperienza del regno del peccato e di quello della penitenza per giungere quindi alla salvezza e al regno della luce ormai purificato Dante a parte la scenetta molto bella quando incontro a Virgilio ma ora io seguo solo il filone di Beatrice Dante è titubante Virgilio allora gli spiega che non si trova lì per caso si trova lì perché è stato sollecitato appunto da Beatrice che dal cielo è andata nel limbo dove egli sta con altri spiriti magni dell'antichità Omero Ovidio Orazio e quanti altri Aristotele eccetera eccetera tra color che sono sospesi cioè stanno in limbo non si soffre né si gioisce affinché potesse far da guida al suo amico in pericolo di perdizione perché Virgilio è tutto un simbolismo perché per uscire dalle idee confuse che Dante sente di avere ci vuole la ragione Virgilio nel simbolismo della commedia rappresenta la ragione e per uscire dal peccato ci vuole la fede e la fede è simboleggiata da Beatrice Beatrice che dal cielo non si è dimenticata del suo amico e in veste di grazia cooperante su sollecitazione di Santa Lucia grazia illuminante su invito della piena di grazia a Maria Vergine ha pensato bene di affiancargli Virgilio come guida che Dante considera maestro di poesia e di morale e questo glielo racconta Virgilio tutta questa storia di Beatrice eccetera quindi Dante è commosso e dice oh pietosa con lei che mi soccorse quindi a sapere che questo viaggio è provvidenziale acconsente eppure sentendosi indegno si mette in viaggio con Virgilio e attraversano come sappiamo insieme l'inferno e poi il purgatorio quindi però già si vede come all'inizio del poema il ruolo determinante di Beatrice Beatrice che incontrerà di persona soltanto nel paradiso terrestre cioè in vetta alla montagna del purgatorio e perché lì Beatrice gli va incontro per assumere lei stessa la funzione di guida a posto di Virgilio cioè guida teologica perché ora da allora in poi devono andare attraverso i cieli fino i nove cieli fino all'empirio della visione di Dio Virgilio ha esaurito intanto il suo compito di ragione e in più non può oltrepassare i limiti del purgatorio perché l'inferno è il purgatorio e nell'ottica di Dante quella medievale si trovano sulla terra l'inferno nelle viscere della terra il purgatorio è una montagna nell'emisfero australe su un'isola e lì in cima al purgatorio appare Beatrice appare tra acclamazioni di angeli e dei santi nel contesto di una processione mistica che sotto gli occhi stupefanti di Dante si sta svolgendo questa processione simboleggia la chiesa madre e maestra militante della chiesa militante trainata da Grifone Cristo quindi è un carro un carro che è la chiesa militante trainato da Grifone Cristo e che rappresenta quindi la storia della salvezza per l'umanità redenta e appare questa questa visione in questa visione c'è Beatrice sovracandido vel cinta d'uliva donne ma parva ma parve sotto verde manto vestita di color di fiamma viva e che sono i colori delle tre virtù teologali fede speranza e carità bianco bianco rosso bianco verde e rosso traccascate di fiori lanciati dagli angeli Dante però siccome Beatrice è velata non la riconosce subito però per occulta virtù che da lei mosse d'antico amor sentì la gran potenza cioè intuisce proprio da questi battiti si emoziona intuisce che si tratta di Beatrice perché prova le stesse sensazioni che ha provato a nove anni e dice conosco i segni dell'antica fiamma questo punto cerca sostegno e conforto in Virgilio si volta ma Virgilio non c'è più e quindi ha tu per tu con Beatrice e Beatrice gli parla e dice Dante perché Virgilio se ne vada non piangere ancora quindi lo chiama per la prima volta con il suo nome che la prima volta è l'unica che appare nella commedia e si rende conto che sì è proprio lei sicura di sé regalmente austera però continua e dice guardaci ben ben son ben son Beatrice come degnasti di accedere al monte non sapevi tu che qui è l'uomo felice in tono di rimprovero quindi non non insomma e Dante rimane male a sentire questi rimproveri e gli angeli presenti perché questa è una grande processione come dicevo intercedono per lui insomma dice Beatrice non trattarlo così male e Dante si mette a piangere la Beatrice ribadisce i rimproveri anche motivandoli sia agli angeli che ha il diretto interessato affinché prenda coscienza delle sue delle sue colpe quali sono le sue colpe dice Beatrice nell'aver sperperato i suoi talenti malgrado lei lo avesse sostenuto sin dalla giovinezza mostrando gli occhi giovanetti a lui per condurlo per la diritta via cioè non l'aveva salutato per caso a 18 anni ma perché lo stimava e ne era attratta ma una volta che lei era salita in cielo fu io a lui men cara e men gradita insomma oggi diremo lontano dagli occhi lontano dal cuore Dante si era dimenticata di Beatrice e a nulla valsero ispirazioni sogni che Beatrice mandava a Dante per farlo rinsavire Dante continuava a cadere in basso sulla via dello smarrimento sicché per il suo bene non rimaneva che mandargli Virgilio affinché potesse recuperare diciamo la retta via e attraversare poi il purgafore e purificarsi dei suoi peccati perché alla morte di Beatrice come si è detto Dante fu preso da questa passione per la filosofia il professor Civiano accennava il fatto che aveva filosofia e teologia ma intanto sempre lì le studiavano a Santa Croce a Santa Maria Novella però con la filosofia si era smarrito e lo rimprovera dicendo avrebbe fatto meglio sostenuto dal ricordo di lei beatificata avvolgersi piuttosto alla verità delle scritture perché doveva trovare una dimensione spirituale della vita quindi lei lo può rimproverare dice agli angeli perché quell'amore terreno adesso ha implicazioni celestiali e spirituali e quindi già da questo primo incontro sulla montagna del purgatorio si palesa Beatrice così premurosa come la sua santa protettrice che dal cielo non ha mai smesso di preoccuparsi per lui Dante ha tutto questa sfilza di rimprovero di rimproveria ammette le proprie colpe e addirittura sviene letteralmente sviene quando riprende i sensi si trova immerso da Matelda Matelda è una figura misteriosa dell'Eden del paradiso terrestre si trova immerso nelle acque del fiume il fiume il fiume immerso in quelle acque praticamente non si ricordano più le colpe i peccati commessi e poi passa all'altra riva accolto da quattro fanciulle le quattro virtù cardinali che sono le ancelle di Beatrice Beatrice la processione continua appunto nel paradiso terrestre è sul carro chiesa e la vede ora non più velata ma in tutto il suo splendore sia della bellezza degli occhi e sia anche del sorriso di cui dice la seconda bellezza che tu cieli che tu nascondi Dante assiste con Beatrice alla trasformazione del carro che riassume simbolicamente le vicende della chiesa e Beatrice invita il suo protetto a riferire in pro del mondo che mal vive il carro tiene orli occhi e quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive quindi è una vera e propria investitura profetica la prima investitura profetica che Dante riceve che poi sarà ribadita da lì a poco e poi sarà riconfermata anche dal trisavolo cacciaguida più in là e fra l'altro gli prospetta il fatto che ha finito questo incontro all'Eden partiranno per l'alto per i cieli del cosmo dell'universo poi avviene l'immersione nell'altro fiume che attraversa il paradiso terrestre l'Eunoè l'Eunoè invece fa ricordare il bene fatto le acque dell'Eunoè fanno ricordare il bene fatto e così rinnovellato grazie alle premure di Beatrice è passato praticamente a una vita nuova che è premessa di vita eterna e quindi Dante è pure a questo punto puro e disposto a salire alle stelle e come sappiamo finisce con questo verso il purgatorio a mezzogiorno è mezzogiorno del 13 aprile 1300 Dante spicca il volo con Beatrice verso i nove cieli e poi l'Empireo e praticamente questa è un'esperienza completamente nuova perché fino a ora l'inferno e il purgatorio erano nella dimensione come dire del pianeta Terra invece anche se vissuto spiritualmente il tutto invece ora si trova nei cieli e trasumanar significar per verba non si porria trasumanar che è un verbo inventato da Dante ma passato alla storia molto bello cioè passare dallo stato umano a quello divino per un'esperienza spirituale straordinaria che lo condurrà fino alla visione di Dio e Beatrice glielo ricorda tu non sei in terra siccome tu credi e gli spiega anche l'ordine dell'universo visto che si accingono a attraversarlo le cose tutte quante hanno ordine tra loro e questa è forma che l'universo a Dio fa similiante e in tale ordine grandioso nel gran mar dell'essere anche questa è un'altra bellissima espressione di Dante è proprio dell'uomo cercare Dio come ora Dante sta facendo quindi cominciano ad attraversare i sette cieli il primo cielo è quello della luna e i beati gli si mostrano in tutti i cieli nell'immaterialità della luce e lo fanno nei sette cieli per mostrare il loro grado di santità perché poi in realtà lui non li riconosce perché sono immersi nella luce invece poi li vedrà così come sono nei loro aspetti nell'Empirio quando ci arriverà intanto Beatrice accresce sempre più il suo splendore di cielo in cielo e Dante aumenta la sua consapevolezza perché Beatrice in veste di teologa gli dà una serie di spiegazioni volta a volta che si presenta l'occasione e quindi Dante non smette praticamente mai attraverso tutti i canti del paradiso di fare l'elogio di Beatrice questo il primo a quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto con lei cioè che aveva riscaldato il suo cuore negli anni giovanili e che ora gli illumina la mente mostrandogli la bellezza e la dolcezza della verità del paradiso e Dante che già stravedeva per lei in terra come abbiamo visto adesso non può che venerarla sempre più splendida nella sua luce e pende dalle sue labbra e impara moltissimo naturalmente qui tutti i canti non si possono prendere in considerazione quindi arriviamo subito all'incontro con Cacciaguida il Trisavolo Cacciaguida che occupa tre canti nella Cantica del Paradiso dove Dante ha un dialogo veramente affettuosissimo con il Trisavolo il quale tra l'altro gli ricorda che se ora si trova lì è Mercè di Colei che all'alto volo ti vestì le piume cioè grazie a Beatrice se tu ora sei qui e poi Cacciaguida gli ricorda gli profetizza anche il futuro esilio perché la commedia è nel 1300 immagina Dante l'esilio è successivo al 1302 quando non è potuto ritornare a Firenze e l'idea di esilio Dante lo vive come conflitto interiore e gli chiede addirittura ma è il caso che io scriva la commedia visto che mi procura tanti dispiaceri ma il Trisavolo lo rassicura e gli dice vai tranquillo perché avrai sì i dispiaceri ma avrai anche tanta gloria infatti siamo qui a parlarne ma anche Beatrice lo conforta e dice sempre di lei lodi su lodi quella donna che a Dio mi menava disse muta pensiero pensa che io sono presso a colui che ogni torto disgrava cioè sono presso Dio e arriviamo all'ottavo cielo delle stelle fisse o firmamento dove Dante ha visioni di mistiche risonanze tra luci armonie indicibili perché si celebra in questo cielo il trionfo di Cristo e la glorificazione della Vergine Maria Regina del Cielo proclamata Regina del Cielo dalla Chiesa Trionfante perché ora siamo in Paradiso quindi è la Chiesa Trionfante che si mostra nel corteo degli Apostoli e dei Beati Beatrice quindi è felice di mostrargli gli spiega tutte le visioni a cui assiste e lo sosterrà subito dopo negli esami di fede di speranza e di carità che Dante dovrà sostenere con gli Apostoli Pietro Giacomo e Giovanni arriviamo al primo mobile il primo mobile è il cielo subito sotto l'Empirio l'Empirio è un cielo che nella concezione Aristotelio telemaica è un cielo immobile che è sede di Dio il primo mobile il primo dei cieli sottostanti che riceve il moto dall'Empirio e lo trasmette a tutti gli altri cieli ora qui è una un'orevissima cosa che mi viene in mente cioè noi pensiamo ora certamente questa non è la visione di oggi che noi abbiamo del cosmo però queste intuizioni questa non era proprio di Dante ma lui l'ha fatta sua come i cieli si muovono perché la terra si muove le stelle no infatti le chiamano le stelle fisse quindi per dire il 1200 ma ancora la fisica l'astrofisica non era quella avevano della buona conoscenza direi anche della fisica dell'astrofisica dell'universo anche se in una visione religiosa e Beatrice spiega a Dante l'armonia dell'universo nello scorrere del tempo chi è Beatrice ancora una volta quella che imparadisa la mia mente e che a suo tempo con i suoi occhi belli appigliarmi fece amor la corda e in questi occhi belli praticamente Beatrice vede una visione che è un punto luminosissimo vede negli occhi di Beatrice e questo punto è la prima visione di Dio cioè vede Dio attraverso gli occhi di Beatrice in questo da quel punto gli spiega la la santa donna da quel punto dipende il cielo e tutta la natura quindi Dio è un punto fermo intorno al quale ruotano i cieli ai quali presiedono ai nove cieli i nuovi ordini angelici e siamo così nell'Empirio io mi avvio alla conclusione quando approda quindi alla visione beatifica per la quale tanto si è adoperata Beatrice e l'ha condotto nell'Empirio alla luce intellettuale piena d'amore amor di vero ben pieno di letizia letizia che trascende ogni dolzore questi sono versi del 1200 un italiano che ancora stava nasceva ma come sono di una chiarezza straordinaria ancora nella nostra lingua parlata quindi siamo già nell'Empirio dicevo che è sede di Dio e degli angeli e dei santi e Dante vede un'ultima visione ancora una visione di questa realtà soprannaturale vi dilume in forma di rivera fulvido di fulgore intra due rive dipinte dimirabile primavera che si dispongono poi in forma di mistica rosa e Dante esclama oi splendor di Dio per cui io vidi l'alto triunfo del regno verace cioè la suprema bellezza della città di Dio a questo punto questa è una visione spettacolare perché la mistica rosa è l'insieme di tutti i santi che formano un anfiteatro dove ogni santo ha il suo seggio il suo posto Dante si volta e non c'è più Beatrice si volta e c'è San Bernardo è un vegliardo San Bernardo che è simbolo della grazia come Beatrice era della fede e Virgilio della ragione San Bernardo lo sostituirà Beatrice nel rimanente viaggio fino alla visione totalizzante di Dio uno e trino visione però che sarà possibile per intercessione di Maria la piena di grazia alla quale rivolgerà una fervida bellissima preghiera che tutti noi conosciamo vergine madre figlia del tuo figlio umile alta più che creatura termine fisso d'eterno consiglio e poi continua per altri versi Beatrice ora dove è andata è sparita è nel suo seggio nel trono che i suoi merti le sortiro dice San Bernardo e Dante la vede lontano perché l'anfiteatro è grandissimo anche vicino perché non ci sono le distanze e Dante la vede lì nella sua gloria lei che al divino dall'umano all'eterno dal tempo era venuto e di Fiorenza in proprio il giusto e sano cioè tutto questo splendore Dante riconosce che è merito del soccorso che Beatrice gli ha fornito la vede nella sua gloria eterna e la ringrazia di cuore questa volta mentre in tutta la commedia aveva sempre parlato con Beatrice dandole del voi ora invece le dà del tu come in genere si fa con i santi anche noi quando preghiamo diamo del tu ai santi o donna in cui la mia speranza vige e che soffristi per la mia salute in inferno lasciare le tue vestige di tante cose quant'io ho vedute dal tuo podere dalla tua bontade riconosco la grazia e la virtù tu mai di servo tratto a libertà per tutte quelle vie per tutti i modi che di gioffare avei la potestate la tua magnificenza in me custodi sì che l'anima mia che fatta e sana piacente a te dal corpo si disnodi quindi da musa protettrice a santa protettrice la prega e ringrazia di essere giunto quindi alla contemplazione nel mistero della trinità di Dio l'amor che muove il sole e l'altra stella grazie 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 Massaro complimenti per la conoscenza approfondita della commedia veramente 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 bello perché poi hai fatto tutta una sintesi del paradiso veramente grazie io so se c'è qualcuno c'è qualche domanda io voglio solo sottolineare questa cosa chiaro che Beatrice e molti hanno pensato che sia solamente una figura filosofica io penso assolutamente no non so cosa ne pensi perché è chiaro che lui la usa anche in questo senso però c'è proprio una vicinanza fisica abitano vicini a Firenze perfino i terreni nel contado dei Fortinari e degli Arigieri non accanto ho visto a Camerata c'erano i terreni dei Fortinari e degli Arigieri vicino a Monteloro c'erano i terreni insieme quindi loro è sicuramente una figura vera reale ecco abbiamo delle prove su questo sicuramente c'è questa intanto il fatto che Beatrice sia andata a sposa Simone dei Bardi e diciamo a testa è scritto e storicamente accertata naturalmente come dicevo all'inizio se fosse stato se Dante non si fosse innamorato di Beatrice sarebbe rimasta un'anonima gentildonna fiorentina però è una figura storica alcuni qualche studioso un po' bizzarro dice queste cose che magari solo figura di filosofia di teologia invece è una persona storica che ha ispirato Dante perché si è innamorato e Dante ovviamente per aver scritto delle opere così importanti così dense di significato anche a distanza di sette secoli vuol dire che aveva un animo veramente incline all'amore umano ma all'amore divino e quindi lui l'ha sublimata ma questa propensione era già in nuce nel fatto dello stil novo perché come dicevo all'inizio anche nello stil novo la donna veniva idealizzata quindi ed era quella prassi comune per tutti diciamo i poeti del dolce stil novo quindi dopo non ha fatto altro che idealizzarla sublimarla ancora di più in senso spirituale ma questo non la toglie la sua storicità io sono arci convino ma non solo io proprio la stragrandissima maggioranza degli studi è una figura reale senza altra Fabrizio ecco no poi si può aggiungere appunto che effettivamente poi Dante si sposa con una persona di estrazione magnetizia per cui Gemma Donati fa parte della famiglia Donati ma poi affronterò la mia piccola relazione però di fatto poi Dante si scrive un'arte per cui la carriera politica può essere perseguita soltanto se siamo di estrazione popolare questo non significa che non si possa agire nell'ambito delle dinamiche politiche della città quindi Beatrice riporta anche Dante essendo una portinari una estrazione diciamo popolare che diventa di grido nella città di Firenze perché se si era magnati si era penalizzati sostanzialmente quindi c'è anche una componente diciamo molto pratica per la scelta della persona che ovviamente nasce da passioni personali però va anche su una dimensione diciamo di come dire storicizzazione della classe di estrazione di Dante che gli permette poi di diventare Pirone nel 1300 insomma Senz'altro sì sì perché appunto Dante nell'episodio richiamato ora non mi soffermerò ovviamente di caccia guida caccia guida ha anche una funzione di stabilire dal punto di vista Dante ci tiene a lasciare questa traccia perché caccia guida era un cavaliere della cosciata quindi era un personaggio nobile e quindi Dante ci tiene a sottolineare questa nobiltà però poi nei secoli due secoli da caccia guida giustamente come diceva il professor le cose sono andate un po' però si inquadra in quell'ottica che dice vivevano nel solito sestiere quindi è una situazione proprio cittadina ecco quindi su questo è vera reale fisica ecco sulla storia della città sulla politica della città sulla società della città Esther vuol dire qualcosa a te che è stata anche una promotrice io ti voglio ringraziare ancora una volta per aver promosso queste cose se c'hai da dirci qualcosa un commento l'unica cosa che si attesta alla presenza di Beatrice è il testamento di Fulco Portinari dove lui appunto affida i parenti a Guido Cavalcanti e quindi c'è nomina Beatrice quindi Beatrice c'è tra i suoi figli c'è Beatrice senz'altro quindi insomma su questo io penso che non ci siano dubbi no no ma sai perché è vero c'è stato perché poi questi studiosi certe volte partono per questa tangente e non guardano i fatti no i fatti sono questi le articolazioni giustamente perché rientra appunto in questa concezione immaginifica spirituale della donna però secondo me è un personaggio che esiste e come senza altro certo Fulco Portinari ce l'ha sicuramente ha fondato questo ospedale che è 730 anni che è qui questo c'è sicuramente ok grazie no grazie a te se c'è qualche altra domanda una curiosità no direi allora rimandiamo alla prossima conferenza sarà interessante perché parlerà proprio dei fedeli d'amore la rammentata ma ma perché c'è quest'aspetto filosofico di Dante cioè quello filosofico e quello medico rimangono un po' in sottordine al grande poeta però ci sono ecco quindi la prossima volta sarà molto interessante sentirlo grazie a tutti arrivederci buonasera